Grazie a te. 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 Fai vedere al meglio il tuo lavoro naturalmente, come è stato pensato dall'autore e gestito dal curatore e dalla curatrice in questo caso naturalmente. Però il lavoro di un'artista è un'artista è un'artista. Grazie a te. 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 La sacralità, che è quello che fondamentalmente ha corta distinto anche le immagini precedenti dei Ninescapes, stavo pensando, stavo ripetendo sul tema della croce, della crocifissione, oltre che della croce, la croce come simbolo, la crocifissione come atto, che ovviamente ha queste due grandi valenze per tutto il mondo, fondamentalmente per la religione cristiana, e cioè la crocifissione come atto d'amore di Dio verso suo figlio, verso l'uomo, ma dall'altra parte la crocifissione è una pratica, una tortura, un sistema di morte, un atto di crudeltà terribile e uno, credo, dei peggiori nella storia. Quindi non voglio fare una crocifissione vera e propria, perché a rischia di diventare una pantomina e b soprattutto rischia di sfociare nel grottesco e anche nel crudele, cosa che non voglio in questa cosa. Però prendere la croce, la crocifissione come atto in sé, farlo diventare naturalmente simbolico, collocarlo nella visione più ampia dei Ninescapes e da lì portare avanti una serie di immagini che hanno a che vedere naturalmente con la religione cristiana, inevitabilmente, perché a quello subito rimanda. Ma estapolare da questo un attimino il discorso della religione e portarlo ad un livello di lettura più universale. Quindi cercare di raccontare attraverso la croce, sicuramente anche la deposizione e poi l'eventuale elevazione finale, una possibile risurrezione, perché attraverso questo cammino di comunque sofferenza poi ci deve essere una liberazione, un ritorno alla vita. Un attenzione finale, un ritorno alla vita, esattamente, appunto in chiave relativamente simbolica. È tutto svolto, come al solito, di notte, perché comunque di notte io ho la possibilità non solo di godere del momento, la luce è magica ed è un momento in cui tutti conosciamo in realtà, però fotografarlo, registrarlo, ti permette di sentirlo più vicino, naturalmente, e soprattutto di avvertire questo momento di sospensione di breve morte, che è la notte in cui fondamentalmente quasi tutti dormiamo, quindi tutto è più calmo, tutto è più placato. E già questo mette un bel velo su quello che capita. Sì, è una sorta di memento mori quasi, mi ricordo un po', un memento mori dove si è in una fase transitoria, quel dormire che è tra la vita e la morte, o comunque tra il controllo del sé e la perdita poi del proprio controllo nel momento in cui si entra nella fase onirica, o appunto in uno stato in cui non si ha più un totale controllo della propria psiche e del sé. Quindi in qualche modo condivido con te la passione per la notte e soprattutto questa visione della notte come un momento di intimità, dove uno veramente può sentirsi vicino a se stessi e nel caso tuo specifico a queste scenarie, a queste ambientazioni naturali o architettoniche, come nelle tue immagini, che però hanno un forte senso di spiritualità, di sacralità, anche appunto se non c'è alcun divino inteso come divino, come si può intendere, da manuale, quindi non c'è nessun dio, ma c'è solo probabilmente un forte, quasi direi, oserei dire, o umanesimo o panismo, dipende poi dalle situazioni. Sarebbe veramente fantastico poter riprendere le attività espositive, poter fruire non solo quindi della tua spiegazione, che è già stata comunque molto esplicativa, soprattutto capire e vedere, con mano toccare e con gli occhi poter osservare e godere di queste nuove opere, che saranno sicuramente potenti a livello... Ti ringrazio, vedremo, lo vedremo, lo spero proprio. ...e di significato. Quindi con questo io ti saluterai e ti ringrazio per... Grazie Valeria, grazie a te. ...per aver partecipato a questa conversazione e soprattutto per aver condiviso la tua fotografia. Grazie a te Valeria, grazie dell'opportunità, è sempre un piacere sentirti e andrà tutto meglio. Non dico andrà tutto bene, ma andrà tutto sicuramente meglio. Speriamo meglio, io sono sempre un po' positiva. Sicuramente, sicuramente.